Ciao, questo è un nuovo video che di solito faccio il mercoledì del nuovo numero di Topolino, che siamo arrivati al 3524, che in questo volume ci sono cinque storie, tranne l'ultima che si deve girare il volume che ha due copertine con l'ho uscito in questa settimana, che ho visto che magari nelle... a parte che c'è sempre, come si dice, il disegno in prima pagina sempre di Silvia Ziche, però ho visto che magari in queste trame, più che altro magari mi è piaciuto più che altro gli ultimi due, però... a parte che magari sempre prima dell'indie, del sommario, c'è sempre questo a questa facciata, anche con una specie di sketch della copertina che c'è sempre davanti, però la prima storia che si trova e si chiama Detective Conan Donald, la storia di questo vito stabile, i disegni di Carlo Livido, che magari come storia e marei anche come storia e marei anche marei i disegni, marei... ho visto che marei... a solita che marei che si può... marei trovare... marei su Topolino che marei... e chi marei lo legge marei come... come trame, marei non è... come trame, marei delle storie, non è così... eh... sono... non sono così marei complicate marei come... eh... trame perché magari... Topolino più che altro marei lo leggono marei... eh... anche magari ragazzini così... eh... che marei... sulla... sulla trama marei non poi magari... eh... pretendere magari quel più di tanto... però... eh... eh... magari a me, magari in particolare, come ho detto prima, mi sono piaciute le ultime... eh... le ultime due... e come seconda storia era Newton e Pico in viaggio nel sapere... eh... nuovi ma... eh... maestri, vecchi allievi... eh... che la storia di questo Danilo Beninotti e... eh... eh... i disegni di... eh... soffritti... eh... che era questa qua che magari... eh... anche nella parte di... dei disegni magari ho visto che... ma... eh... marei... è sempre... marei... come... eh... sono sempre come... eh... i soliti... eh... disegni magari... che non ha magari così tanto... magari... eh... cose particolari... questi qua di... eh... eh... i disegni magari di... eh... di soffritti però... eh... so... eh... so... eh... come trama... magari come... eh... come la prima... eh... 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 magari sono una di... di quelle solite che magari si possono trovare qua... eh... in questi... eh... eh... questi volumi dopo la... la terza e a... eh... come si dice... eh... eh... il... eh... il secondo episodio... eh... di tre... di Topolino... il fattore... eh... gamma... il ponte... eh... spazio-temporale... eh... la storia... eh... di... eh... di... eh... eh... di... eh... di... eh... 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 eh ma è per tutta mai la facciata che non erano mai che c'erano tavole mai per tutta la facciata ma il confronto mare queste qualche sono divise però quest'età e queste tavole che morai vignette che magari sono sono magari per tutta ma è la facciata a me magari a me piacciono magari più delle altre però ho visto che magari come che i disegni di questa qua ho visto anche anche nella parte mare del del colore mi è piaciuta ma è più delle altre che più delle altre che anche in questa quale la quarta e le pensatone di fiuto giò rischiava un tesoro rotolate che proprio in questa storia e disegni erano di federico franzo ho visto che magari come si dice magari erano erano mai tornati un attimo ai soliti ai soliti disegni che si trovano mai nei soliti magari topolini che a parte che come se sede questa quarta come si dice questa quarta è un attimino corta però i disegni più caldo mi avevano colpito più che altro mai quella della di questi questo posto e fico che al secondo episodio di di tre e l'ultima che credo che dovrei capovolgere il volume che a vacanze in astro astro roulette che la storia era di questo francesco artibani e i disegni di loenzo pastrovi e pastrovi vicchio che ha questa qua che doveggia il volume che l'ho visto che se riesco riuscivo mai ad aprire qualche i disegni morelli di di questa qua mi hanno piaciuti come magari quelli della mare della terza storia trama che si vedeva la terza traversi vedeva in questo volume qua che c'era più che altro così dice questo colore si notava più caldo questo questo il rosso qua poi si dice che magari ho visto che magari c'è tempo tavole ma questo cosi cava il il disegnatore di questa trama ma e così dice passo vecchio ma lei non disegniamo è come le tavole ma nella solita maniera ma lei divise in sei magari erano divise in sei parti può come anche questa qua o c'erano mai tavole per tutta la pagina o magari la suddivisione ama è un po così dice diversa delle marea delle tavole così po nel compresso ma è la terza e questa ultima storia che si doveva capovolgere il volume mi piacevano mai ho visto che questi tipo di disegni mi sono quelli ma che mi e magari a me mi piacciono mai più in particolare ma lei non volevo mai dire quel più di tanto magari sulle trame che si parla e marea colpito più di tanto sulle trame che si che c'erano in questo volume per qualcuno che non l'ha ancora letto per fare qualche spoiler però visto che anche la copertina di la seconda copertina di quello che di quando dovrei capovolgere il il volume a era quello che c'è scritto che celebano insieme i cento anni di meravigliose marei emozioni e niente che magari come ha detto prima non è che nella pagina iniziali si è sempre questo scherzo marei di silvia ziche che c'è sempre che c'è sempre questa silvia ziche con il topolino e niente che costa sempre i soliti 33 e 20 che quando capita questi volumi qualche dove anche capovolgere marei il volume marei è anche ma è una cosa ma è un po di diversa dal solito che morai come ha detto prima mi erano colpiti più che altro questi disegni della terza e dell'ultima dell'ultima trama più che altro magari un attimino di più di questa della terza che i disegni erano sempre di questo passo passo vecchio che magari con questi colori marei un attimino un po più magari in un certo senso marei accesi con sempre con gli sfondi marei certi volte ma tutti neri per esaltare marei più marei certe cose però anche questa marei questi tavoli marei che prendeva marei tutta la facciata così è un nome e mi sono marei più che mi erano piaciuti niente per questo volume qua di topolino di questa settimana marei ho già quello che potevo dire marei l'ho già detto marei con topolino ci vediamo marei mercoledì prossimo quando esce il prossimo numero e niente per stavolta marei chiudo marei quel video e niente ci vediamo sicuramente marei più avanti come i soldi soliti video sui marca o su quei fumetti dai di quella marei da sergio bonelli per adesso ci vi saluto ci vediamo al prossimo video ciao